Una giornata importantissima, direi una giornata di una grande alleanza per l'ambiente. Il nostro protocollo insieme per l'ambiente, Lega Ambiente Campania e Ciaxi Scienza, per fare un lavoro duro, quello della diffusione di stili di vita sostenibili, perché è chiaro che l'università, l'associazionismo e il terzo settore devono lavorare su due percorsi. Uno rivolto agli enti locali, ai grandi amministratori, alle imprese che devono essere sollecitati alla sostenibilità per mettere in campo quella transizione ecologica utile, ma dall'altra la transizione deve partire dal basso e quindi noi facciamo riferimento ai cittadini, agli stili di vita che sono le piccole e grandi rivoluzioni silenziose che ogni giorno si fanno attraverso delle scelte di vita. Il protocollo prevede una comunanza di intenti riguardo alle campagne di cittadinanza attiva che riguardano in particolare la campagna volontari per natura, in cui tutti i cittadini si possono rendere artefici volontari del cambiamento verso un mondo più pulito. E noi di Ciac Si Scienza ci uniremo a questa attività realizzando dei reportage e servizi giornalistici in occasione delle campagne di pulizia con Ciac Si Puliamo. L'aspetto fondamentale da cui bisogna partire per risolvere il problema ambientale è quello di unire le forze. Solo attraverso una sinergia con tutte le realtà attive sul territorio è possibile risolvere questo problema che è davvero urgente e solo coinvolgendo i cittadini per renderli protagonisti attivi e consapevoli possiamo farlo e quindi raccogliendo le testimonianze delle associazioni ambientaliste in occasione di questa giornata in cui realizziamo un'alleanza con Lega Ambiente.